Da Sulmona fino all'Aquila per reperire il farmaco biologico per la reumatologia continuano i disagi per i pazienti sulmonesi che sono costretti a fare chilometri pur di accedere alle cure. A denunciare il caso è il Tribunale per i diritti del malato con la responsabile dell'area legale Katia Puglielli. Per certificare il piano terapeutico i pazienti sono costretti ad andare fuori fino a poco tempo fa c'era un medico a Tagliacozzo che ora ha raggiunto la pensione, ne consegue che gli utenti devono invece recarsi all'Aquila dove si sta concentrando l'erogazione di una serie di servizi interviene la Puglielli rimarcando il disagio che vivono i cittadini che per un semplice farmaco devono imbattersi in lunghi viaggi. Tagliacozzo o l'Aquila non è quella la differenza ma il caso fa riflettere su come la sanità resta lontana dalle esigenze degli utenti rincara l'avvocato del Tribunale dei diritti del malato sostenendo che i medici del territorio potrebbero accreditarsi per prescrivere farmaco necessario alle cure anche nella zona. Un problema quindi risolvibile anche se i disagi restano.